Musica Ciao ragazzi, qui l'Alex, bentornati al mio canale ed eccomi qui oggi con un nuovo video Siamo su Nioh 2 E fin qua tutto bene Ho portato un paio di video su Nioh 1 E ragazzi, ora siamo sul 2 Fantastico Se non fosse per il fatto che oggi probabilmente bestemmeremo tanto, tantissimo Allora ragazzi, faccio questo video perché io non riesco a fare questo boss Sono in una missione secondaria, non vi dico in quale regione, non vi dico niente Però sono in una missione secondaria Questa missione secondaria si basa solo sul sconfiggere un boss Quindi bisogna sconfiggere solo il boss Ne ho sconfitti una miriade molto più forti, molto più temibili Visto qua Ma ironia della sorte, non riesco a batterlo E quindi ho detto facciamoci il video dove scleriamo Bene Ragazzi come ben vedete ho il mio Rikimaru direttamente da Tenchu L'ho creato su Nioh Su Nioh 2 E tanta roba ragazzi Cioè guardatelo È qualcosa di bellissimo E ragazzi il nostro boss Ecco lì, è proprio lui Raga, proviamoci Magari lo faccio la prima volta Non credo Però mai dire mai Quindi ragazzi Il nostro ninja è pronto E andiamo Ok Bene E vabbè quanta vita E vabbè ragazzi Cazzo di affondo È una cosa incredibile È una cosa incredibile Il suo affondo V one shot Non mi importa se siete a due chilometri O un metro V one shot Ragazzi è una cosa Secondo tentativo E proviamoci Ok Ok Proviamo con una bomba Niente Magia Ok Ok Una vita Niente oh Sto contrattacco Non funziona mai Bello No 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 Madonna che culo Via 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 Minchia mi stava raggiungendo la pietra Io non ci credo Bravo Serpentone mio Allora con calma Shuriken Vai 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 Yes Ok raga fermi Non ho mai tolto così tanta vita Olè Olè Proviamo a rallentarlo Ok 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 raga Sono emozionato Fermi E volevi bastardo Eh Merda Sono elettrizzato E non riesco a Ah Sono stordito Più che l'altro No via da qua Le le Sono tutta fine No Se solo Se solo Non usavo gli ameriti in quel momento Porca trota Che nervoso Raga Basta Basta un affondo suo E andate dritti All'inferno Una cosa incredibile Riproviamoci Madonna santa Il signore Ragazzi veramente Lo sto odiando questo boss È una cosa incredibile Ikimaru Dai Ce la possiamo fare Abbiamo battuto Nemici molto più temibili Ok Niente Se ne sbatto i coglioni Dei miei colpi Mi attacco ugualmente Va bene Ok La trasformazione Yokai Pronta Però Merda Grazie a tutti Ragazzi è una cosa incredibile Io non so più che cazzo Questo boss Mi ricorda Particolarmente un boss di Gno1 Che pure quello ragazzi nel campo di grano Mi pare che era Ma mi sa che è lui Mi sa che è lo stesso boss Non vorrei dire cazzate Però me lo ricorda particolarmente Comunque Riproviamo ancora una volta Ma guarda lui subito con l'affondo L'infame capito Vediamo se li sto abbastanza attaccato Eh li tolco tanto con la posa alta eh Bello Ok Ragazzi quanto li sto togliendo Fermi Ah Ok Che cosa si Ha 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 Bastardo Maledetto Mamma mia Ci prova sempre quello a fondo Sto maledetto No lo sapevo Dai l'avevo quasi battuta Ragazzi ci provo l'ultima volta Poi chiudo il video Basta Comunque la postura alta Della spada così Li toglie particolarmente Tanto Alla vita quindi Ci può stare Fare sempre il colpo potente Vediamo un po' Ma solo gli affondi fa Minchia ma è ridicolo Sto boss Fa schifo Solo gli affondi One shot Ti fa Guardalo Oh 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 Buon appetito! 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 Buon appetito!